In cerca del salto di qualità anche mentale, così Vincenzo Montella apre la conferenza stampa che porta alla vigilia della gara contro il Parma. L'allenamento deve essere ancora svolto, ma il tecnico Viola sembra avere le idee chiare. In ogni caso, se ci saranno dei cambi nella formazione titolare rispetto alle ultime partite, non si tratterà di turnover, ma soltanto di meritocrazia. Abbiamo detto che sin dall'inizio abbiamo una rosa molto ampia, molto vasta e anche omogenea. Quindi domani, così come sono state le partite precedenti, verrà messa in campo la squadra che penso che possa fare meglio. Insomma, quindi con i propri interpreti che non necessariamente debbano essere gli stessi o saranno gli stessi, ma però non penso al turnover. Penso a mettere in campo la squadra migliore per fronteggiare il Parma. E oltre alla sfida in sé per sé c'è anche un problema che potrebbe verificarsi all'orizzonte o quantomeno sotto pelle, quello della concentrazione in vista del doppio impegno ravvicinato contro la Juventus. Questa penso che sia tra quei momenti dove si deve dimostrare di aver fatto il salto di qualità a livello mentale, soprattutto. Quindi per me è facile l'allenatore perché è doveroso e anche un obbligo dover pensare a una partita per volta perché non c'è assolutamente spazio per pensarne a due. Quindi per me è facile preparare la partita e mi auguro che lo sia anche soprattutto per i giocatori perché è un passaggio fondamentale quello di domani, soprattutto come interpretazione alla partita. Poi il risultato molto spesso è figlio di tanti episodi anche, però l'approccio mentale è una partita molto importante proprio perché viene in questo momento, proprio perché dopo tre giorni c'è una partita molto sentita, anche stimolante per i giocatori stessi. Quindi sarà importante avere delle risposte importanti. Per gli allenatori stessi. Anche per gli allenatori sicuramente. Ma secondo te Antonio Conte deve essere sistemato martedì sera? Scusami, ma te lo devo chiedere. Già secondo me la domanda non dovrebbe essere... No, nel senso il quesito non ci si dovrebbe fuori. Credo di aver capito, anche se non ho avuto modo di parlare con la mia società, che dalla parte della società, al di là delle esternazioni, ci sia la volontà di mettere a disposizione quello che è possibile per la società. Devo dire che anche io in passato, a partita precedente, ho chiesto di skybox e non mi sono stati dati. In qualche modo mi spiacerebbe che ci fosse un trattamento diverso, insomma, diciamo così. Però credo che gli sarà riservata la massima accoglienza per quanto è possibile, insomma, rispetto a come è obbligato il nostro stadio. E tornando alla partita del Tardini, queste le caratteristiche degli uomini di Donadoni che potrebbero mettere in difficoltà i viola. Ma sicuramente il Parma ha finito un campionato eccellente la scorsa stagione. Qualcosina davanti hanno cambiato ed esclusivamente davanti, ma è una squadra che è molto ordinata, che si difende molto bene, che riparte con un contropiede, diciamo così. Hanno delle ripartenze molto veloci e è una squadra molto forte sulle palline attive. Quindi è una squadra pericolosa per come giochiamo noi e per le loro caratteristiche. Cercando di capire qualcosa di più sulla formazione, le domande dei media incalzano in sala stampa anche sulle condizioni di Luca Toni e su un possibile innesto di Mati Fernandez dal primo minuto. Però Toni io lo considero senza guardare la carta d'identità, abbiamo la possibilità di valutarlo giorno per giorno, sta crescendo anche lui fisicamente, quindi per me le scelte verranno fatte esclusivamente in base a quello che vedo, non certa la carta d'identità. Sicuramente è un giocatore che per caratteristiche ci sta benissimo nel nostro modo di giocare.